Siamo con l'assessore al bilancio del comune di Fiumicino, Vincenzo Lintino, che ringraziamo di essere qui nella sede del Far Online. Affronteremo il discorso proprio del bilancio, perché è una di quelle materie un po' oscure che la gente spesso non capisce, non è molto visibile, sono numeri, sono statistiche, sono debiti spesso e non si riesce a capire qual è il vero senso di quell'assessorato e crediamo sia un aiuto proprio alla collettività capire meglio come funziona l'assessorato al bilancio. Le faccio subito una domanda così la metto subito in crisi. Spieghiamo che cos'è un bilancio consolidato, che cosa vuol dire? Innanzitutto ti ringrazio, ci diamo del tu. Ci diamo del tu. Ti ringrazio per ospitarmi in questa trasmissione, in questa intervista, perché appunto mi dà modo di poter spiegare anche al pubblico qual è il lavoro di un assessorato al bilancio e che cos'è un bilancio dell'amministrazione comunale. Nello specifico mi chiedevi del bilancio consolidato, sostanzialmente il bilancio consolidato è la risultanza economico patrimoniale del gruppo composto dall'amministrazione comunale e dalle società partecipate dall'amministrazione comunale. Perdonami se ti interrompo, la risultanza economico patrimoniale, cioè in termini della signora Maria? È sostanzialmente... Tutto le entrate e le uscite? In buona sostanza sì, ma è più correttamente la fotografia dello stato di salute dei conti pubblici. Quindi non solo del comune ma anche delle società partecipate? Non si tiene in considerazione, nel nostro caso teniamo in considerazione solo la Fiumicino Tributi e le farmacie comunali, perché non si tengono in considerazione quelle società in cui il comune ha delle piccolissime partecipazioni e che quindi non influiscono sulla determinazione del bilancio consolidato nella sua composizione. Allora vogliamo chiarirle a che cosa si riferisce quando dici le società partecipate, la Fiumicino Tributi per esempio? L'ho detto prima, nel nostro caso teniamo conto della Fiumicino Tributi e della Fiumicino Farmacie. Farmacie, perfetto, Tributi e Farmacie. Allora questo bilancio consolidato, ovviamente i bilanci sono fatti di numeri, che cosa ci dicono i numeri attuali? Allora diciamo che a livello generale il dato è confortante, perché chiudiamo, sicuramente con un positivo di bilancio di oltre 7 milioni di Euro, c'è un unico dato negativo che è quello della Fiumicino Tributi, che purtroppo per le note vicende che sono state già discusse in passato, nel corso dell'intero anno trascorso politico chiude con un dato negativo di poco più di 350 mila Euro, ma questo è causato dalla sentenza che pendeva sulla Fiumicino Tributi rispetto alla Corte dei Conti e a tutta quell'indagine che ci ha obbligato a prevedere un fondo rischi di copertura di quella sentenza per coprire l'eventuale sentenza negativa e questo ha causato questa perdita di 350 mila Euro. La Fiumicino Farmacia invece chiude con un bilancio positivo di 142 mila Euro, quindi ha una situazione positiva e di buona salute. Quindi alla fine i numeri sono incoraggianti? I numeri sono confortanti, sono incoraggianti, però ci tengo a sottolineare che questa è una fotografia di una situazione non attuale, ma che si riferisce al 2023, quindi chiudiamo questi numeri, sono la fotografia della situazione che noi abbiamo al 31 dicembre del 2023. Certo, perché i bilanci si fanno sempre sull'anno precedente, però qua mi stuzzica una domanda un po' polemica, quindi allora non stavamo così male, visto che l'opposizione vi ha contestato più volte di aver detto che il loro lavoro era stato in qualche maniera oscurato, era stato detto che il bilancio del Comune era devastato una volta eletti, qual è la verità di questa diatriba, diciamo così? Secondo me in questo caso l'opposizione mente sapendo di mentire, nel senso che è ampiamente testimoniato anche dai miei interventi precedenti sulla stampa, il Consiglio Comunale quando c'è stata l'opportunità di discutere di bilancio, che nessuno di noi ha mai detto una cosa del genere, nessuno, io in primis ho mai descritto il bilancio ereditato come un bilancio disastrato, però detto questo evidenziavamo delle criticità importanti che puntualmente poi si sono verificate e che hanno in qualche modo contribuito ed inciso ad avere questa situazione patrimoniale, soprattutto nella Fiumicino Tributi, della quale dobbiamo registrare un dato negativo di perdita, perché rappresentavano due o tre punti di estrema criticità nella gestione dei conti pubblici. In primis dicevo la Fiumicino Tributi che versava nelle condizioni che tutti conosciamo, c'era questa profonda incertezza, c'era questa spada di damocle della sentenza, di questa indagine, per cui è stata condannata e ha determinato questo disavanzo. L'altro punto che ho sempre evidenziato era la grande esposizione debitoria della nostra amministrazione nei confronti di cassa depositi e prestiti, in buona sostanza per dirla come dicevi alla casalinga di turno, avevamo dei mutui molto alti, un monte mutui molto alto e questo ha determinato nel corso di quest'anno e determinerà anche nel corso del 2025 una scarsa capacità da parte nostra di accendere nuovi mutui, perché andremmo ad incidere troppo sull'esposizione debitoria. Quindi i mutui, un po' come una famiglia, sono le rate che devi pagare mensilmente? Le rate che devi pagare mensilmente, annualmente, per cui questo incide fortemente sulla spesa corrente che deve essere distratta dal servizio per essere utilizzata a sostenere queste rate di mutuo. Queste erano le criticità vere che si evidenziavano e questo si è rivelato corretto, si è rivelato esatto perché effettivamente i numeri stanno a dimostrare proprio esattamente questo. Allora, i numeri del futuro, come pensate di organizzare la parte economica? Quali sono le prospettive, le strategie per migliorare questi numeri? Allora, le strategie in parte sono già state attuate e quella fondamentale, insomma diciamo il provvedimento fondamentale è quella della trasformazione della Fiumicino Tributi da società partecipata a società in house, ovvero abbiamo acquisito il 100% del controllo della società. Quindi per dirla sempre alla signora Maria, la Fiumicino Tributi adesso è pubblica? È pubblica, è totalmente pubblica, fino a questa estate, diciamo, quando si è perfezionato il processo e noi detenevamo il 51% della società e il 49% era privato. da quest'estate in poi è tutto totalmente pubblica e totalmente del comune. E totalmente del comune, evidentemente. C'è una nuova diligence che si sta adoperando per trasformare la società, ricostruirla, ristrutturarla e questo è di fondamentale importanza perché la Fiumicino Tributi è quella società che per noi è un po' la cassaforte, è quella che si occupa di tributi locali, che si occupa di contrasto all'evasione e su questo punto stiamo fortemente spingendo sul contrasto all'evasione e già i risultati sono più che confortanti quelli che ci pervengono dalla Fiumicino Tributi perché abbiamo scovato una serie enorme, molto importante di evasori totali che sono stati scritti nei registri e questo è un plus rispetto al mero e semplice recupero dell'evasione perché diventano, vanno a rimpinguare il numero di utenti che possono da oggi in poi pagheranno delle tasse che fino adesso… Ma quello che si chiedono tutti è pagheranno veramente? Perché il punto è quello che tante persone che fino adesso non hanno pagato non credo abbiano intenzione di farlo. Allora, molte persone non hanno pagato, c'è da fare una distinzione, alcune persone non hanno pagato anche perché sono attraversati degli anni di crisi e quindi quello va bene e recuperiamo sulla specificità di quell'evasione. Diverso è dire che fino ad oggi c'erano degli utenti che erano completamente sconosciuti alla nostra banca dati perché si era fatto un lavoro sbagliato, diverso. Da oggi in poi quegli evasori sono iscritti come i nostri utenti diretti, quindi diventa strutturale come entrata, non è una tantum, è da qui all'infinito. Quindi diciamo, lo dico visto che noi siamo il faro, si è acceso un faro che ha illuminato questi evasori totali che non possono più scappare, poi adesso il recupero sarà con i mezzi che la legge mette a disposizione se loro non pagano volontariamente, però comunque sono inquadrati. Sono inquadrati, se loro non dovessero pagare, a differenza del passato, oggi possiamo fare, possiamo operare, mettere in campo quelle azioni previste dalla legge che prima non potevamo fare perché ci erano completamente sconosciuti e questo ha dato sicuramente un plus all'entrata. Il controllo analitico di tutto quello che succede è stato migliorato appunto con la ristrutturazione del Fiumicino Tributi, per la quale ringrazio la nuova dirigenza che sta lavorando veramente mentre a terra giorno e notte per fornirci uno strumento adeguato alle nostre esigenze e questo ci permetterà di valutare la possibilità di non solo lasciare inalterate le tariffe dei tributi locali, cosa che già abbiamo fatto quest'anno, grazie a un lavoro di recupero dell'evasione fiscale. Il nostro auspicio è quello di poter, se non abbassare i tributi locali, prevedere delle esenzioni per soggetti particolari, per particolari figure che sono in sofferenza e quindi questo ci potrà permettere di valutare la possibilità di abbassare per determinate categorie la pressione fiscale. L'ultima domanda è politica, uno dei temi sui quali le amministrazioni, quale che siano, vanno in crisi è proprio il bilancio, cioè le amministrazioni spesso cadono nel momento del bilancio. Come state messi voi a livello politico sulla compattezza o meno dell'intervento sul bilancio e quale sarà il prossimo appuntamento di bilancio? Perché magari ce lo spiega pure quali sono i vari appuntamenti del bilancio annuali e magari ci ritroveremo anche qui a commentare la prossima seduta. Partiamo da quest'ultimo punto, il prossimo appuntamento è la stesura del bilancio e della previsione del bilancio del 2025, 26 e 27 del triennio, dal 2025 al 27 che si concluderà verosimilmente prima del 31-12 di quest'anno perché entro quella data dobbiamo consegnare il bilancio. Questo definirà quelli che saranno gli investimenti previsti per il 2025 e per i due anni successivi e quelli che sono i nostri obiettivi di governo per i prossimi anni. Per questo stiamo già iniziando a lavorare con gli altri gruppi consigliari, con gli altri assessori, con le altre aree per definire quelle che sono le priorità che vogliamo darci, quelle che sono le esigenze di ogni area, quelli che sono i progetti futuri che poi devono essere aderenti al DUP, al documento unico di programmazione. Devo dire che su questo questa maggioranza che qualcuno ne dica ha dimostrato estrema compattezza, un'unità di intenti e una visione, oltre che all'unità di intenti, una visione comune di gestione della città, fatta ovviamente salvo che ognuno ha particolari sensibilità rispetto ad alcuni temi e ad alcuni argomenti. Però devo dire che a differenza del passato ci siamo dati una metodologia ben chiara e di questo ringrazio anche il Sindaco che ha dato questo input e la possibilità ad ognuno di intervenire direttamente con le proprie richieste, con le proprie esigenze sul bilancio. Tutte le anime che compongono questa maggioranza sono attive e propositive nella stesura del bilancio e io ho il compito in grado di dover raccogliere queste esigenze, trasformarle in numeri, capire quelle che sarà possibile perseguire, quello che non sarà possibile perseguire perché è inutile che prendiamo in giro la cittadinanza, lungi da me, tu mi conosci anche da un po' di tempo, non mi piacciono i libri dei sogni, bisogna parlare di cose concrete, di quello che si può fare e di quello che non si può fare, non tutto è possibile fare perché ahimè anche il sistema nazionale ed internazionale, scusami se faccio questo passaggio, ma incidono poi sulle amministrazioni pubbliche nei conti perché dobbiamo attenerci a determinate regole, per cui non stiamo qui a promettere cose irraggiungibili, però sarà sicuramente un'amministrazione concreta che sono sicuro che amplierà i servizi offerti alla cittadinanza, abbiamo come ti dicevo in mente un'idea di città ben definita e mi fa piacere constatare che tutte le varie anime che compongono questa maggioranza hanno una comune visione della gestione, quindi credo che alla fine uscirà un buon lavoro rispetto a… vedremo, io vi auguro buon lavoro, noi se l'assessore sarà disponibile a questo punto, se ho capito bene le date, noi ci potremmo rivedere dopo l'epifania, dopo il passaggio delle feste in cui un po' tutto si interrompe per fare il punto su quello che è il bilancio di previsione e magari spiegarlo anche alla città. Certamente, sono a vostra disposizione. Grazie a voi di avermi ospitato e buona giornata a tutti.